Sono Luca Pasquarella, creatore di Exclusive Experience Store. Exclusive si trova a Napoli, a Posillico. Abbiamo scelto una location riservata in una zona prestigiosa, ma una location comunque familiare al nostro target di riferimento, che è il target del lusso. È una location che ci permette di esaltare le nostre soluzioni. Exclusive è nata dall'esperienza fatta con una location un po' più piccola con il Boss Center di Napoli, esperienza che ha creato un contatto, è stata la prima esperienza con un contatto diretto con il pubblico più che altro del settore residenziale. Abbiamo portato l'approccio del professionale nel settore residenziale e questo ci ha dato grandi soddisfazioni e ci ha stimolato a immaginare uno scenario diverso. Infatti oggi Exclusive nei suoi 600 metri quadri presenta tantissime soluzioni che spaziano dalla tecnologia audio-video all'illuminazione, all'arte contemporanea, a gadget estremamente divertenti. veramente il cliente entra in uno spazio in cui è avvolto da mille interessi. Il nostro focus tuttavia si pone sul mercato residenziale, sul mercato del retail, sul mercato del settore nautico. Diciamo che noi proponiamo delle soluzioni tailor-made allo stato dell'arte ma estremamente friendly. Diciamo che all'interno della nostra struttura abbiamo allargato enormemente le nostre accezioni perché il nostro cliente trova esperti di tutti i settori perché oltre noi, diciamo poi titolari di questo spazio, trova dei nostri partner che si occupano dai rivestimenti di superficie in resina a superficie in PVC termoteso, a climatizzazione, sistemi di anti-intrusione e videosorveglianza, fino ad arrivare a quella che è la tecnologia del momento, per esempio, che è la stampa 3D. Abbiamo infatti in sede uno scanner circolare di 2,50 metri circa di diametro, quindi misura umana, che ci permette con l'ausilio di 108 macchine fotografiche di generare un file che stampiamo direttamente in sede con una stampante 3D della 3D System, la 660, che stampa direttamente in un polimero molto simile al gesso e stampa direttamente a colori. Quindi per gioco, come business, realizziamo i mini-me, quindi la mini-statuetta per il nostro cliente, ma realisticamente ci occupiamo di prototipazione per aziende di tutti i tipi, quindi dalla rubinetteria, le maniglie per le porte o tantissimi altri oggetti. Oltre questo, rimanendo su quello che poi è il nostro focus, noi ci occupiamo di realizzare, come dicevo, soluzioni tailor-made per i nostri clienti di automazione, quindi movimentazione di televisori, videoproiettori, display, quello che sia, di Mirror TV con il nostro marchio AID TV. Ma oltre questo, chiaramente, c'è per esempio quello che è sempre stato nel mio cuore, che è quel marchio del cuore, che è Bose. Bose che è presente sia per la parte consumer che per la parte professionale. Abbiamo la sala dimostrativa dei prodotti home cinema di Bose, abbiamo un'area dedicata a tutti i prodotti pro di Bose, che nel tempo stanno aumentando in maniera esponenziale, infatti Bose anche con le elettroniche si è spinta a livelli veramente inaspettati per chi ci lavora da tanto tempo. Quindi con Bose, come con altri marchi, andiamo quindi verso il settore retail, verso il corporate, più che tutte le situazioni in cui sia necessario un audio, insomma, con una definizione dei dettagli molto molto alta. Oltre questo, chiaramente, per completare l'offerta abbiamo unito degli altri marchi, sempre prestigiosissimi come Tannoy, Shure, Genelec, Rain, come Sonos. Siamo arrivati poi a implementare ulteriormente il tutto curando la parte video con marchi come Epson, di cui abbiamo, per esempio, un esempio a mio fianco. Nella sala riunione in cui noi ci troviamo, che è una sala che mettiamo a disposizione dei nostri clienti, che siano architetti, ingegneri o professionisti di qualsiasi tipo, abbiamo presentato delle... cioè, utilizziamo, più che presentare, noi utilizziamo nel quotidiano un sistema interattivo, per esempio, di Epson, che nel momento in cui generalmente viene presentato a catalogo al cliente non ha alcun tipo di appeal particolare, in quanto magari si deve scendere troppo nel dettaglio tecnico. Diversamente, il cliente, quando ospite di un architetto o direttamente nostro ospite, fruisce di questa soluzione, comincia a utilizzare la lavagna interattiva per modificare degli elaborati, stamparli in tempo reale, effettuare uno screenshot e salvarlo, si rende conto delle potenziali, delle tecnologie che sono dietro l'angolo, ma non immagina nemmeno che possano esistere, o pensa che possano avere dei costi estremamente esosi. Tutto questo, per noi, è una leva importante, cioè, far sì che il cliente, in questo contesto, possa trovarsi in una sala riunioni in cui il tavolo, le sedie, la mochetta acustiva che si trova a terra, il PVC termoteso che c'è a soffitto, più che i cristalli on-off che delimitano, i cristalli LCD che delimitano questa sala, che con un tocco di un tasto diventano trasparenti o bianchi, fanno sentire il cliente in un contesto nel quale lui può affidarsi serenamente per qualsiasi di sua necessità, certo del fatto che avrà una risposta pronta e data con cognizione di causa. A parte questo, abbiamo di recente, dopo una lunga selezione, scelto un partner, per esempio, per quanto riguarda i display a LED, un partner del nostro territorio, che è Unitec, che praticamente ci ha dato enormi garanzie su quello che è un prodotto che oramai, purtroppo, è un prodotto a web, è un prodotto per il quale c'è un'offerta massiva, devastante, nel quotidiano riceviamo mail dai paesi orientali con offerte incredibili, ma chiaramente noi ci teniamo a poter proporre ai nostri clienti una soluzione che sia una soluzione affidabile, cioè rimanendo proprio nel concetto del mio amore primario che è Bose, Bose che è un'azienda che continua a investire nel 2015 in ricerca e sviluppo e ad avere sempre dei prodotti e delle soluzioni esclusive. Abbiamo voluto scegliere anche per la parte LED un prodotto studiato e customizzato da un esperto che è Gino Passarella di 100% Pure Design, che ha ottimizzato dei sistemi veramente affidabilissimi. Quindi questa è la grande attenzione che noi riponiamo nella scelta di tutti i marchi che sono presenti all'interno della nostra struttura, che sono quelli che poi alla fine nel tempo ci hanno fatti crescere, perché sono stati garanzia di affidabilità con i nostri clienti. All'interno di Exclusive nel tempo ci saranno ulteriori sviluppi, ad oggi stanno entrando in partnership delle nuove entità che si occupano di tensostrutture o di strutture outdoor presso statiche, quindi con materiali innovativi. Parliamo di aziende svizzere o tedesche che si occupano di produrre soluzioni per le realizzazioni più prestigiose a livello mondiale. Queste aziende hanno scelto Exclusive, azienda e struttura del sud dell'Italia come polo di eccellenza per tutte le soluzioni non convenzionali. Volendo concludere, quindi che cosa vuole essere Exclusive? Exclusive è praticamente un posto in cui noi ospitiamo tutti i professionisti e le aziende che vogliono uscire dal mercato massificato, dal mercato in cui regna la speculazione, in cui regnano i meccanismi commerciali standard. Tutti coloro che vogliono proporre delle soluzioni non convenzionali che siano comunque su misura per il cliente, cioè che rispettino e superino le aspettative del cliente con dei parametri di costi di costo corretti. Quindi rimanendo nei termini di fattibilità con altissima affidabilità. Grazie